La sera della vigilia di Ivan Kupala Storia vera, narrata dal diacono della chiesa di Puntini Puntini Foma Grigolievich aveva una sua particolare stravaganza. Detestava a morte raccontare due volte il medesimo racconto. Se riuscivi a farglielo ripetere, ecco che ci ficcava dentro qualcosa di nuovo. O lo rimpastava, così che non potevi riconoscerlo. Un giorno uno di quei signori, per noi gente semplice, è difficile pronunciarne anche il nome, illetterati, che so. Basta, sono proprio come i mezzani da fiera, pitoccano, arraffano, rubano a piene mani tutto quello che capita e poi stampano alla fine di ogni mese o settimana certi loro tomi, magari come sillabari. Uno di quei signori uscì a carpire a fama Grigolievich la novella che segue. Egli non ci pensava ormai più. Quando ecco che da poltava, arriva il signorotto dalla palandrana color pisello del quale ebbe a dirvi e del quale penso abbiate già letto un racconto. Ha con sé un librizzino e apertolo a metà ce lo mostra. Foma Grigolievich stava già per sellarsi il naso con gli occhiali ma ricordandosi di aver dimenticato di avvolgerli col filo e di incollarli attorno con la cera lo passò a me poiché io, bene o male, so leggere e non porto gli occhiali incominciai la lettura. Non avevo neppure voltato due pagine che mi interruppe afferrandomi per un braccio. Fermo! Prima di tutto, ditemi cosa state leggendo. Io, lo confesso, mi sentì alquanto imbarazzato a una simile domanda. Come? Cosa sto leggendo, Foma Grigolievich? La storia vostra? Le vostre stesse parole? Chi ve lo ha detto che sono le mie parole? Che volete di più? C'è perfino stampato raccontata dal diacono tal dei tali? Sputagli in testa a chi ce l'ha stampato. Mente, quel moscovita figliuol di Troia. Era così che parlavo. Non c'è neanche il diavolo di un venerdì nella zucca. Ascoltate, ve la racconto subito io. Noi facemmo cerchio attorno alla tavola ed egli cominciò. Mio nonno, pace all'anima sua che nell'aldilà mangi soltanto panini di fior di farina e pasticcetti di papavero al miele. Sapeva narrare che era una meraviglia. Apriva la bocca e non ti saresti più mosso per tutto il giorno e per tutto il tempo saresti rimasto ad ascoltarlo. Altro che i contafrottole di oggi che appena incominciano a minare a zonzo il moscovita e con una lingua che sembra non abbiano mangiato nulla da tre giorni non resta che cacciarsi il berretto in testa e scappar via. Ricordo, era ancora viva quella povera vecchietta di mia madre. Nelle lunghe serate d'inverno, allorché il ghiaccio crepitava fuori e aveva completamente murato la stretta finestrella, essa sedeva dinanzi alla conocchia filando lunghe gugliate, dondolando la culla col piede e canticchiando una canzone che mi par di riudire, come fosse adesso. La lucerna, tremolando e guizzando quasi qualcosa la spaventasse, ci rischiarava la stanza. Ronfava il fuso e noi altri ragazzi stretti in crocchio ascoltavamo il nonno che ormai da cinque anni per la vecchiezza non si muoveva più da sopra la stufa. Ma nel bel favolare sui vecchi tempi lontani, sulle incursioni dei Zaporodzky, sui polacchi, sulle geste ardite di Potkova, Poltora Kozica e Sagai Dacini, non ci avvinceva quanto il racconto di un portento avvenuto in antico, che a dirlo ti faceva sempre correre i brividi per il corpo e drizzare i capelli sulla testa. A volte ti metteva indosso una paura, che non appena scendeva la sera, travedevi in tutte le cose e Dio sa che mostri. La notte, quando dovevi uscire per un bisogno, ecco che immaginavi che uno spettro ti si fosse infilato nel letto per dormire e che io non ve lo possa più raccontare un'altra volta, se spesso, da lontano, non scambiavo il mio proprio giubbetto sul capezzale per un demonio raggomitolato. Ma ciò che importa nei racconti del nonno è che egli non diceva mai una bugia e qualunque cosa affermasse era la verità sacrosanta. Ora io vi narrerò uno dei suoi meravigliosi racconti. Lo so che c'erano infinità di barbassori che vanno imbrattando carte per i tribunali e sanno perfino leggere un rescritto civile, i quali, anche se in un comune abbreviario non saprebbero distinguere un'acca, sono tuttavia maestri nell'arte di fare sfoggio dei denti. Costoro, qualunque cosa racconti, te la voltano in burla. Tanta è la miscredenza che si è diffusa nel mondo. E c'è di peggio, ecco, che Dio e la Vergine Purissima non mi vogliano più bene. Voi forse neppur crederete, ma una volta, non so a quale proposito, mi sfuggì un'allusione alle streghe. Ebbene, ti salta su uno scavezza a collo. Non ci crede alle streghe, lui. Sì, grazie a Dio ne ho visti, da che sono al mondo, di eretici che a infinocchiare il prete alla graticola ci mettono meno che noi altri a fiutare una presa di tabacco. Ma persino quelli si facevano il segno della croce a sentir parlare di streghe, che potessero sognare di notte un... Ma è meglio non dirlo. Non vale la pena. discorrere di loro. Tanti e tanti anni fa, più di cento, diceva il nonno Bonanima, il nostro villaggio non lo avrebbe riconosciuto nessuno. Una masseria fra le più miserabili. Una decina di piccole capanne, senza intonaco, senza il tetto, spuntavano qua e là in mezzo ai campi. Non esisteva né uno steccato né una stalla a modo per riparare una bestia o un carro. Ed erano i ricconi a vivere così, se poi aveste veduto come viveva la gente par nostra, i pitocchi. Una buca per terra, ecco, la casa. Soltanto dal fumo si poteva capire che vi abitavano creature di Dio. Mi chiederete perché vivessero così? Non tanto a causa della povertà, perché allora quasi tutti si davano alla cosaccheria e riuscivano a raccogliere non poche ricchezze in terra straniera, quanto principalmente perché non vi era alcun senso a mettere su una casa per bene. Una quantità di gentaglia ad ogni risma batteva la campagna a quei tempi, crimeani, polacchi, lituani, e accadeva che anche i nostri assaltassero e depredassero i propri compatrioti. Ne accadevano di tutte. In quella masseria capitava sovente un individuo, o meglio, un demonio in veste di individuo. Da dove venisse, perché venisse, non lo sapeva nessuno. Sta a bichellonare, si sbornia e scompare a un tratto come asciugato dall'aria. Non se ne sa più nulla. All'improvviso rieccolo come se fosse caduto giù dal cielo a trotterellare per le strade di quel villaggio di cui oggi non è rimasta neppur la trazza e che si trovava forse a non più di cento passi da di canca. Raduna quanti cosacchi incontra, erise, canzoni, fiumi di tenaro e torrenti di vodka. Se fa la corte a qualche bella ragazza, nastri, orecchini, collane da non saper più dove metterli. È vero che le ragazze restavano un poco perplesse ricevendo quei doni. Chissà, poteva darsi davvero che fossero passati attraverso mani impure. La sia germana di mio nonno che a quel tempo gestiva sull'attuale strada di Oposhnyan una bettola dove spesso veniva a costovigliare Basavriuk, come si chiamava quell'individuo infernale, diceva appunto che non avrebbe consentito per tutto l'oro del mondo ad accettare un solo regalo da lui. Ma d'altra parte come rifiutarlo? La gente si sentiva penetrare di spavento allorché egli aggrottava quelle sue sopracciglia setolose e lanciava quelle sue occhiate traverse che avresti voluto darti la gambe e finire chissà dove. Ma se l'accettavi ma se l'accettavi la notte dopo ecco che dal borgo ti veniva a far visita uno di quegli amiconi con le corna in testa e dagli a stringerti il collo se al collo hai un monile a morderti un dito se al dito hai un anello o a tirarti le trezze se vi hai intrecciato un nastro getteli al diavolo allora quei doni ma ecco il guaio non riuscivi a disfartene rigettavi nell'acqua l'anello o l'indemoniato monile galleggiavano sull'acqua e con un salto ti tornavano in mano in quella borgatella se ben ricordo vi era una chiesa dedicata mi pare a san pantaleo vi risiedeva allora un prete padre afanasi di beata memoria accortosi che basavriuk non andava mai in chiesa neppur nel giorno di pasqua ebbe l'idea di ammonirlo di rogargli la penitenza ecclesiastica ma che fu un miracolo se riuscì a riportare a casa le gambe ascoltami bel signore gli rispose quelli con voce tonante occupati dei fatti tuoi anziché mischiarti in quelli degli altri se non vuoi che il tuo gozzo caprino si intasi di cutia bollente cosa si poteva fare con quel maledetto padre afanasi si limitò a bandire che chi fosse rimasto in combutta con basavriuk sarebbe stato considerato un cattolico nemico della chiesa di cristo e di tutto il genere umano in quella borgatella presso un cosacco soprannominato biscotto viveva un garzone che la gente chiamava piotra senza famiglia forse perché nessuno ne ricordava il padre e la madre è vero che il fabbriciere della chiesa asseriva che costora erano morti di peste appena un anno dopo che gli era venuto al mondo ma la zia di mio nonno non voleva neanche sentirla questa storia e si intestava voler riappiccicare di riffa un paio di genitori ancorché il povero piotra tanto ne abbisognasse quanto noi della neve dell'anno scorso essa sosteneva che il padre di lui si trovava tuttora nel zaporoz che era stato prigioniero dei turchi che aveva subito tortura non sa dio quali e che non si sa in quale miracolosa maniera travestito da eunuco era riuscito a prendere il largo alle ragazze dalle sopracciglia nere e alle giovane spose non importava certo granché della sua progenitura esse dicevano soltanto che a vestirlo con un gabbano nuovo cinto da una fusaccia rossa a porgli in capo un berretto di astracan nero dal bel cucuzzolo azzurro ad appendergli al fianco una cimitarra a porgli in una mano lo scudiscio nell'altra mano una pipa con belle guarnizioni egli si sarebbe messo in saccoccia tutti i giovanotti di allora ma disgrazia voleva che i beni del povero Petrus consistessero solo in un farsetto di colore bigio dove erano più buchi che zecchini in tasca ad un giudeo né questa è ancora la peggiore disgrazia ma eccovi qui la disgrazia il vecchio biscotto aveva una figliuola una perla quale forse mai ne vedeste di simili la zia del nonno buonanima e voi sapete quanto una donna sia più disposta con vostro rispetto parlando a baciare il diavolo chiacchia marbella un'altra raccontava che le guance paffute della cosacca erano fresche e splendenti come un papavero del color rosa più tenero allorché lavatosi nella rugiada del signore arde distende le foglioline e si veghezza al solicello ororarevatosi che le sopracciglia erano due cordoncini neri simili a quelli che le nostre ragazze per sospendervi crocette educati comprano oggi dai moscoviti che vanno con le gerle pei borghi e così incurvate che pareva volessero rispecchiarsi dentro gli occhi lucenti che la boccuccia al vederla si le cavano le labbra ai giovanotti non l'avresti detta creata per null'altro se non per intonare canti dal rosignolo che i capelli neri come ali di corvo morbidi come un lino novello a quel tempo le ragazze non li portavano ancora in trecce avvolgendoli in bei nastri dai colori vivaci ricadevano riccioli ondosi sopra la veste trapunta che il signore non mi conceda più di dire alleluia nel coro se io ecco qui sull'istante non me la sarei baciata benché la canizia di laghi per il bosco antico della cuticagna e la mia vecchia mi stia attaccata alle costole come la cataratta agli occhi bene se un giovanotto e una ragazza stanno assieme uno attaccato all'altra lo sapete da voi quel che succede non c'era vespro mattino che le impronte di un paio di stivaletti rossi non si scorgessero laddove pidorca era stato a cinguettare con il suo petruscia ciò nonostante a biscotto non sarebbe neanche passato per la mente alcun pensiero di male se un bel giorno a petruscia e soltanto il diavolo basta ben chiaro poté spingervelo non fosse venuta l'idea di appioppare un bel bacio come si dice con tutti i sentimenti sulle rose e labruzze della cosacca senza aver dato prima un'occhiata all'ingresso di casa sua e il medesimo diavolo per bagzanata che a quel figlio di un cane gli appaia in sogno la santa croce fu quegli che spinse il vecchio barbogio ad aprire in quel preciso istante la porta il nostro biscotto restò di sasso a bocca aperta reggendosi con la mano al battente sembrava che quel bacio maledetto lo avesse rintronato gli sembrò più forte di uno di quei colpi che quando non hanno polvere o fucile i villani piccano col martello contro il muro per scacciare gli spiriti a carnevale riavutosi staccò dalla parete lo scudiscio a vito e stava per scaricare una grandine di frustate sulle spalle del povero Piotr quando sbucato fuori chissà da dove accorse Ivas il fratellino di Pidorca un bambinello di sei anni e in preda al terrore gli si avvinghiò con le braccine alle gambe gridando babbo babbo non picchiare Petruscia che fare compadre non ha il cuore di sasso riappesa il muro lo scudiscio e in silenzio condusse fuori di casa il giovanotto se ti rivedo ancora una volta qui dentro o magari anche sotto le finestre stammi a sentire Petro per Dio ci rimetti i tuoi baffi neri e anche al ciuffo che ti si attorce di già due volte dietro l'orecchio non mi chiami più Terenti Biscotto se non gli fa prendere concedo dalla zucca cosiddetto gli allungò con tale agilità uno sganascione fra capo e collo che Petruscia volò a precipizzo senza distinguer la terra sotto i piedi vedi un poco com'è che andò a finire quel bacio furono prese dal crepacuore le due tortorelle ed ecco chi a colmar la misura corse voce per il villaggio che a bazzicare la casa di Biscotto era piovuto da qualche parte un certo polacco ricamato d'oro coi baffi la daga gli sproni con le tasche che tintinnavano come il campanellino che sta appeso al sacchetto con cui il nostro sacrestano Taras chiede ogni giorno l'elemosina in chiesa bene è cosa risaputa il perché si frequentino i padri quando hanno una bella figliuola dalle sopracciglia nere ecco che un giorno Pidorca rompendo in un pianto disperato afferrà per le braccia il suo Ivas Ivas mio caro Ivas mio cuore come un dardo dall'arco vola dal mio Pedro fanciullo d'oro tutto digli i suoi occhi castani amerei il suo bianco vicetto bacerei ma non vuole così la mia sorte tante fiasche di lacrime ardenti ho colmato ho il cuore peso e mi affanno perfino mio padre carnale mio nemico vuol darmi contro il mio volere ad un polacco che non amo digli che apprestano le nozze ma che saranno nozze senza musica in luogo di fistole e mandole canteranno i diaconi io non mi recherò a danzare dallo sposo mi porteranno sopra le spalle sarà tenebrosa tenebrosa la mia nuova casa di legno d'acero e in luogo di comignolo avrà una croce sul tetto senza un gesto quasi diventato di sasso Pedro ascoltava le parole di pidorca balbettategli dall'innocente fanciullo ed io avevo sognato meschino di andarmene in terra turca e in crimea a conquistarmi ricchezze e tornare da te oh mia bella con tanto denaro ma non doveva essere così un malocchio si è posato su noi anch'io pesciolino caro anch'io avrò le mie nozze ma a quelle nozze neppure i diaconi assisteranno gracchierà un corvo nero sopra di me in luogo del prete e mi sarà casa la nuda terra tetto il nembo versicolare beccherà l'aquila i miei occhi castani laveranno le piogge le mie ossa cosacche le asciugheranno i venti ma cosa dunque contro chi presso chi potrò io dolermi si vede che il dio aveva decretato così se debbo finir male che mal finisca e se ne andò di filato alla bettola la zia di mio nonno buonanima rimase piuttosto stupita quando vide petrucia nella bettola e per di più in un'ora in cui la gente per bene usa andarsene in chiesa mattutino e gli stralurò gli occhi addosso come in bambolata allorché lo udì comandare un boccale d'acquavite di quasi sei litri ma in vano il meschino aveva pensato di affogare il suo dolore la vodka gli bruciava la lingua come ortica e gli sembrava più amara dell'assenzio le spinse il boccale rovesciando la terra non rattristarti più cosacco rimbombò una voce di basso sopra di lui si volta e basavriuk oh che grinta i capelli sono setole gli occhi come quelli di un bue lo so quel che ti manca ecco qui con un ghigno diabolico fece tintinnare una borsa di cuoio che gli pendeva dalla cintura petro sussultò come sfavilla muggò versando i ducati sul palmo della mano come squilla è una cosa sola si chiede per un intero monte di questi gingilli demonio grida petro dammelo sono deciso a tutto si batterono con la mano contro la mano sta bene attento petro sei capitato proprio nel momento giusto domani e la festa di ivan cupala in un anno la felce fiorisce una volta sola in questa notte non lasciarti sfuggire l'occasione ti attenderò a mezzanotte al borro degli orsi io credo che i polli non attendano con tanta impazienza l'ora in cui la massaia porta loro il becchime con quanto pedro attese il calar della sera ad ogni istante guardava se l'ombra degli alberi si fosse allungata se il solicello declinante si fosse imporporato e andava diventando mano a mano sempre più smanioso come scorreva lento il tempo davvero che quel benedetto giorno doveva avere smarrito la coda da qualche parte ecco che il sole se n'era ormai andato il cielo rosseggia solo da una parte e ormai va completamente offuscandosi l'aria comincia a farsi più fredda a buia ed è buio finalmente col cuore che pareva volergli balzare fuori dal petto egli si mise in cammino e prese a discendere cautamente attraverso la fitta boscaglia e prese a discendere cautamente attraverso la fitta boscaglia nel profondo dirupo detto borro degli orsi basavriuk era già ad aspettarlo una tenebra peggio che in cantina tenendosi per mano avanzarono per dei paduli melmosi restando impigliati nel fitto prunaio e incespicando quasi ad ogni passo ed ecco una spianata pedro si guardò attorno non gli era mai capitato di giungere fin lì si fermò pure basavriuk vedi quei tre monticelli dinanzi a te ci troverai ogni sorta di fiori ma che la podestà non terrena ti preservi dal coglierne sia pure uno solo invece non appena sboccerà il fiore della felce afferralo subito e non ti voltare qualunque cosa ti sembri di udire alle spalle pedro voleva domandargli si volta non c'è più si avvicinò ai tre monticelli dove sono i fiori non si vedeva nulla attorno nereggiava un'erba selvatica soffocando nel fitto ogni altra cosa ma ecco che nel cielo balenò un lampo di caldo e degli scorse davanti a sé un'intera aiuola di fiori tutti meravigliosi tutti non mai prima veduti là verano anche delle comuni foglie di felce pedro fu colto da un dubbio e ristette perplesso a guardarle con le mani sui fianchi che vi è poi di tanto straordinario cento volte al giorno ti capita sotto gli occhi questa erbetta dov'è il portento che a quel ceffo diabolico non si è venuta l'idea di beffarmi quando ecco si invermiglia un piccolo bocciolo e come fosse vivo comincia ad agitarsi è davvero un prodigio si agita e diventa più grande più grande e si invermiglia come un tizzo ardente si è accesa una stellina si è udito come un leggero sfrigolio ed un fiore una piccola fiammella si è dischiusa dinanzi ai suoi occhi rischiarando gli altri fiori intorno questo è il momento pensò Pedro e stese la mano vede cento mani villose sbucargli da dietro le spalle e protendersi verso il fiorellino e dietro di sé ode uno scalpiccio veloce correre da qua a là chiude gli occhi dà uno strappo allo stelo il fiore gli rimase in mano tutto tornò silenzioso seduto su un ceppo livido come un morto apparve Basavriuk non muoveva ciglio gli occhi fissi su un qualcosa che soltanto lui vede la bocca semiaperta e non da segno di vita intorno neppure un fruscio da far venire i brividi ma ecco si ode un fischio che a Pedro fa gelare i precordi e gli sembrò che l'erba incominciasse a bisbigliare e i fiori a discorrere fra sé con certe vocette sottili come campanellini d'argento gli alberi irruppero in uno scroscio di bestemmie e il viso di Basavriuk si rianimò all'improvviso gli occhi ripresero a splendergli ce n'hai voluto a smuovere la jaga masticò fra i denti sta attento Pedro adesso ti comparirà dinanzi la bellezza fa tutto ciò che ti ordina o sarai perduta per sempre qui servendoci di un bastone nodoso scostò le frasche di una macchia di rovi comparve una capannina ritta come si dice su di un piede pollino Basavriuk si sferrò sopra un pugno e le pareti traballarono sbuca fuori un grosso cagnaccio nero e tramutatosi guendo in un gatto si avventò non indemoniarti non indemoniarti vecchia diavola gridò Basavriuk aggiungendo per condimento una parolina che avrebbe fatto tappare gli orecchi alla gente per bene ed ecco che invece del gatto c'è lì davanti una vecchia dal viso rugoso come una mela cotta tutta incurvata ad arco naso e bazza una di quelle pinze da schiacciare le noci una bellezza superba pensò Pietro e si sentì correre i brividi per la schiena la strega gli strappò il fiore di mano si curvò sopra di esso e biascicò a lungo qualcosa sfruzzandovi una certa acqua fiatava scintilla dalla bocca sulle labbra le comparve una schiuma gettalo via disse ridandoglielo Pedro lo gettò e prodigio il fiore non cadde prese a navigare per l'aria come una barchetta e pareva una pallina di fuoco nel buio infine cominciò lentamente a discendere e cadde così lontano che la stellina appena appena poteva vedersi non era più grande di un seme di papavero qui rantolò sordamente la strega e bazza vriuk mettendogli in mano una vanga soggiunse scava qui Petro ci vedrai tanto oro quanto ne tu ne biscotto ve lo siete mai neppure sognato Petro dopo essersi sputato nelle mani impugnò la vanga ci si appoggiò forte col piede e rivoltò una zolla due tre ecco qualcosa di resistente la vanga risuona e non affonda a questo punto i suoi occhi cominciarono a distinguere un cofano non grande cerchiato di ferro provò a sollevarlo ma il cofano prese a sprofondare nella terra e più egli si sforzava più quello affondava e dietro si udiva uno sghignazio che pareva piuttosto un similare di serpi no non avrai l'oro finché non ti procurerai del sangue umano disse la strega e gli condusse un bambinello di sei anni circa ricoperto da un lenzuolo bianco mostrando col gesto che egli doveva recidergli il capo e non ridì Petro è forse cosa da nulla mozzare senza un perché la testa a una persona e per di più a un fanciullo innocente furioso strappò il sudario che ne celava la testa e che vide Ivas gli stava davanti e le manine il bambinello aveva incrociate sul petto e la testolina teneva reclinata come un ossesso brandendo il coltello Petro si scagliò addosso alla strega e stava sollevando la mano e tu cosa hai promesso in cambio della ragazza tonò Basafriuk e fu come se una fucilata lo avesse colpito nella schiena la strega batte un piede per terra si sprigionò un bagliore azzurrastro le viscere del suolo si illuminarono e divennero come di cristallo e tutto quel che era dentro la terra si fece visibile come se lo si avesse avuto sul palmo della mano ducati gemme dentro pignate scrigni erano ammassati a mucchi sotto a loro gli occhi gli si accesero e si intorbitò la mente come un pazzo afferrò il coltello e il sangue innocente gli spruzzò fin sugli occhi tutto intorno si levò un cachinno infernale torme di orri di mostri presero a ridargli dinanzi la strega adunghiato il cadavere decapitato ne lappeggiava il sangue come una lupa la testa gli turbinò raccolte le ultime forze fuggì a precipizio tutte le cose si tinsero di luce rossa gli alberi grondando sangue parevano bruciare ed emettere gemiti il cielo arroventato dondolava chiazze infuocate simili a bagliori gli vamparono agli occhi stremato irruppe nel suo tugurio e stramazzò a terra fu colto da un sonno di morte due giorni e due notti dormì Petro senza destarsi al terzo giorno come si riebbe guardò a lungo le pareti della capanna ma tentava in vano di ricordarsi la sua memoria era come la tasca di un taccagno da cui non riesce a spremere mezzo tenaro e lo stirarsi udì tintinnare i suoi piedi guardò vi erano due sacchi colmi di monete d'oro soltanto allora ma come tra il sonno ricordò di aver cercato un tesoro e di aver avuto paura solo nel bosco ma come e a prezzo di che lo avesse ottenuto non riuscì a capacitarsene in nessun modo biscotto vide i due sacchi e si intene di tutto petrus è così e cos'ha è un agnellino proprio io non lo amavo proprio lui non era trattato da me come un figlio e intonò al barbogio una tal tiritera di frottole da far venire le lacrime agli occhi di petrusia pidorka raccontò dopo come alcuni zingari di passaggio avessero rapito i vas ma pedro non poté nemmeno ricordarsi del bambinello tanto lo aveva intorbidito la maledetta genia diabolica non vi era alcun motivo di por tempo in mezzo al polacco squadrarono le fiche sotto il naso e si dettero ad apprestare le nozze cossero panini cucirono pezzuole e asciugamani rotolarono sull'aia una botte d'acquavite fecero sedere a tavola i giovani affettarono il corovai dettero fiato ai pifferi manno alle bandure ai cembali alle cobsi e si scatenò la baldoria nei vecchi tempi le nozze ci facevano così che non c'è neppure da paragonarle con quelle d'oggi a volte la zia di mio nonno cominciava a raccontare come se ti cullassero le orecchie raccontava come le ragazze con sulla testa l'acconciatura di gala fatta di nastrini gialli rose e azzurri sopra i quali veniva appuntato un gallone d'oro con camicie di tessuto fine ricamate di seta rossa lungo l'intera costura e disseminate di minutissimi fiori d'argento con gli stivaletti di marocchino montati su tacchi alti di ferro danzassero veri pavoni alle movenze veri turbini al fruscio delle veste la tortorina come le giovani spose sopra il capo la navicella come le giovani spose con sopra il capo la navicella la cui sommità era tutta imbroccato zecchino con un piccolo spacco sulla nuca da cui occhieggiava la scuffia dorata con due cornetti del più vellutato agnello d'oro sborgenti l'uno all'innanzi l'altro all'indietro in azzurre guarnacche del miglior drappo tenendo le mani poggiate sui fianchi in atto maestoso incedessero ad una ad una scandendo in cadenza col piede il gopac come i giovanotti con gli alti berretti cosacchi con giustacuori di panno fino serrati alla vita da fusciacche ricamate d'argento con la pipa in bocca facessero i cascamorti dinanzi a quelle e andassero sciorinando cacca baldole lo stesso biscotto non resse alla vista dei giovani e scrollò la vecchiaia dal groppone imbracciata la bandura succhiando la pipa e cantando insieme e reggendo in bilico sopra la testa un boccale il vecchione si mise a danzare la prisiatica tra lo schiamazzo infernale dei buon temponi cosa non combina la gente quando ha alzato il gomito cominciavano per esempio col camuffarsi dio santo non sembravano più neanche dei cristiani ma non c'è paragone con le mascherate di oggi ai nostri matrimoni oggi cosa si fa ci si trucca da zingari o da moscoviti e basta no allora per esempio uno si vestiva da giudeo e un altro da diavolo incominciavano da prima a sbacciucchiarsi e poi si agguantavano per il ciuffo dio vi benedica vi prendeva un tal riso da doversi tenere la pancia con le mani si mettevano addosso vestiti da turco e da tartaro erano tutti un barbaglio come se avessero preso fuoco ma il bello era quando cominciavano con le sguerguenze e coi tiri birboni allora non ti restava che far testamento alla zia del nonno buonanima che si trovò a quelle nozze capitò un fatto curioso aveva indosso un vestito tartaro largo e andava attorno con la caraffa in mano facendo gli onori di casa quando ecco il diavolo istiga un tale a innaffiarle il di dietro con la vodka un altro che si vede non era da meno ci appiccicò il fuoco divampò una fiammata la povera zia afferrata dal terrore cominciò in presenza di tutti a levarsi i panni di dosso scoppiò un putiferio risate matte una cagnara che pareva ad essere a una fiera neanche i vecchi ricordavano nozze più allegre cominciarono a vivere Pidorca e Petrus come un re e una regina in casa loro c'era di tutto tutto luccicava ma la gente per bene tentennava un pochino il capo nel vedere come essi vivevano la farina del diavolo va in crusca dicevano a una voce da dove può essergli venuta quella ricchezza se non dal tentatore della gente ortodossa da dove poteva prenderlo quel gran mucchio d'oro perché a un tratto e proprio nel giorno stesso in cui egli è diventato ricco quel basavriuk è scomparso come se l'aria lo avesse inghiottito andate poi a dire che la gente se le inventa le cose fatto è che neppure un mese dopo Pedro non si poteva più riconoscere cosa gli fosse successo quale ne fosse la causa il Dio soltanto lo sa se ne sta seduto in un canto e non proferisce parola rimugine rimugine perché voglia ricordare qualcosa quando Pidorca riesce a fargli dire due parole ecco che sembra distrarsi e comincia a discorrere e diventa persino allegro ma se per disgrazia gli ricade l'occhio sui sacchi aspetta aspetta che ho dimenticato grida e viene ripreso da capo da quell'assillo e si arrovella da capo per ricordare a volte dopo essere rimasto seduto a lungo in un cantuccio gli sembra che ecco ecco ora gli sta tornando tutto alla memoria e tutto gli svanisce da capo si vede una bettola gli portano la vodka la vodka lo brucia gli ripugna la vodka qualcuno gli si accosta gli batte la mano sulla spalla e lui ma dopo ogni cosa si offusca come in una nebbia il sudore gli gronda a fiumi giù per la faccia ed egli sfinito ricade sulla seggiola cosa non fece Pidorca consultò perfino degli stregoni e gli versarono la paura e gli fecero il filtro solare non vi fu cosa che gli giovasse così trascorse anche l'estate molti cosacchi i più scapestrati partirono in cerca di ventura i branchi delle anatre selvati che affollavano ancora le nostre paludi ma degli scriccioli ormai non vera più traccia qua e là covoni di grano simili a berretti cosacchi screziavano la campagna per le strade ti capitava già di incontrare carri carichi di legna e fascine il terreno si era indurito e da qualche parte aveva cominciato ad essere cotto dal ghiaccio anche la neve aveva preso a sfarinare dal cielo e i rami degli alberi ad adornarsi di brina come di una pelliccia di lepre ecco mentre i padri si era in mezzo in mezzo alla stanza come un ceppo con i sacchi dell'oro ai suoi piedi si era inselvatichito gli erano cresciuti i capelli era diventato spaventevole e sempre fisso in un unico pensiero sempre teso a ricordare qualcosa e rabbioso incattivito di non poter ricordare spesso balza in piedi con mossa selvaggia agita le mani figgere pupilla in un punto quasi volesse afferrare chissà che con gli occhi gli si agitano le labbra quasi voglia pronunciare una parola ormai da tempo dimenticato e gli si ragzelano la furia lo invasa si rosica e morde le mani e nella bile si strappa intere ciocche di capelli finché placatosi si riaccascia come uno smemorato e poi di nuovo riprende ad arrovellarsi per ricordare e di nuovo infierisce e di nuovo si angustia che gastigo di dio è mai questo pidorca non ebbe più vita da prima aveva paura a restare sola in casa poi si avvezzò la meschina al proprio malanno ma non era possibile riconoscere in lei la pidorca di un tempo non più incarnato alle guance non più sorriso intristita e maciata gli occhi infossati dal pianto un giorno qualcuno mosso si vede dalla compassione le consigliò di recarsi da una maga che viveva nel borro degli orsi e della quale correva fama che risanasse tutti i mali del mondo risolse di tentare quest'ultimo rimedio e insisti riuscì a persuadere la vecchia a seguirla questo accadde di sera proprio alla vigilia di Ivan Cupala Pedro giaceva fuori di sé su una panca e non si accorse affatto della nuova venuta quando ecco pian piano prese a sollevarsi sopra le braccia e a guardarsi attorno all'improvviso fu colto da un tremito quasi fosse stato sotto la mannaia i capelli gli si drizzaron sul capo e ruppe in una sghignazzata che fece raggelare dallo spavento il cuore di Pidorca ricordo ricordo cominciò a gridare con gioia selvaggia e brandita un'accetta la scagliò addosso alla vecchia con quanta forza aveva l'accetta andò a conficcarsi nell'uscio di casa per due buoni palmi la vecchia era scomparsa e in mezzo alla stanza c'era ora un bambino di sette anni circa con una camicia bianca e la testa coperta il lenzuolo cadde i vas gridò Pidorca e corse verso di lui ma il fantasma si coprì di sangue dalla testa ai piedi e rischiarò tutta la casa di una luce rossa terrorizzata e si affuggì nell'ingresso ma come si fu e quanto li ha avuta volle tornare addietro per soccorrerlo troppo tardi la porta le si era richiusa alle spalle con tanta forza che non c'era modo di aprirla a corse gente si diedero a gussare scardinarono l'uscio dentro non c'era più anima viva la stanza tutta piena di fumo e nel mezzo al posto di Petrus un mucchietto di cenere che fumava ancora qua e là corsero ai sacchi cocci invece di ducati con gli occhi fuori e la bocca spalancata non osando muovere un baffo i cosacchi rimasero lì come imparati tanta fu la paura che incutè loro il prodigio quel che accadde poi non lo ricordo Pidorca fece voto di andare in pellegrinaggio raccolse quanto le aveva lasciato in eredità il padre suo e di lì a qualche giorno scomparve dal paese dove fosse andata nessuno può dirlo le vecchierelle premurose le avevano già spedita là dove se n'era andato Petrus ma un cosacco giunto da Kiev raccontò di aver visto in quel convento una monaca ormai completamente scheletrita sempre immersa in preghiera e dai connotati i paesani riconobbero in lei Pidorca raccontò che a quanto pareva nessuno l'aveva mai udita a pronunciare una sola parola che era arrivata là a piedi e che aveva portato una teca per l'icona della Vergine tempestata di pietre preziose così splendenti che a guardarla tutti erano costretti a strizzare gli occhi abbiate pazienza che questa storia non è ancora compiuta nel medesimo giorno in cui il maligno si ficcò in saccoccia Petrus Basavriuk tornò fuori ma tutti se la squagliarono appena lo videro ormai sapevano che Arnese fosse nient'altri che Belzebù il quale aveva assunto l'aspetto umano per andarsene in cerca di tesori e poiché i tesori non si lasciavano prendere da mani impure ecco che lui si industriava ad adescare i giovanotti e quell'anno stesso tutti abbandonarono le loro capanne e se ne andarono a vivere in paese ma neppure là furono lasciati in pace da quel maledetto Basavriuk la zia del nonno buonanime diceva che più che contro ogni altro egli se l'era presa con lei per il fatto che ella aveva lasciato l'antica bettola sulla strada di Oposnian e appunto su lei faceva ricadere la sua collera un giorno gli anziani del villaggio si erano radunati nella bettola e conversavano seduti come si suol dire secondo il grado attorno ad una tavola nel mezzo della quale era stato posto un sarebbe cadere in peccato chiamarlo piccolo montone arrosto avevano chiacchierato e di questo e di quello avevano parlato anche di diavolerie e di prodigi quando ecco fosse parso a uno solo non sarebbe stato ancora nulla ma a tutti sembrò che il montone sollevasse la testa gli occhi errati si gli si animarono e divennero lucenti e un paio di baffi ursuti spuntati di men che non si dica si dettero ad ammiccare significativamente agli astanti tutti riconobbero subito in quella testa di montone la grinta di Basavriuk e la zia di mio nonno pensò perfino che ecco ora le avrebbe chiesto la vodka i rispettabili anziani afferrarono il cappello e via in fretta scapparono a casa accadde un'altra volta che il fabbricere il quale amava ragionare spesso a quattro occhi col boccale a vito non aveva fatto ancora tempo a vederne il fondo due volte che il boccale gli strisciò una riverenza fino alla cintola ti prendesse il diavolo e giù a trincar segni di croce e in quella succede un portento anche alla riverita metà si era costaia appena messa a intridere la pasta entro un enorme vagello che il vagello a un tratto fa un salto fermo fermo ma che postisi i manici sui fianchi con aria di importanza incominciò a ballare la presiatica per tutta la casa ridete pure ma i nostri vecchi avevano ben altra voglia che quella di ridere e non servia nulla che padre Afanasi se ne andasse in giro con l'acqua benedetta per tutto il villaggio e cacciasse il diavolo per ogni strada con l'aspersorio la zia del nonno buonanima seguitò ancora un pezzo a lagnarsi che non appena faceva buio c'era qualcuno che veniva a battere dei colpi sul tetto e a raspare sulla parete che dirvi oggi ecco qui dove c'è il nostro villaggio tutto ha un aspetto tranquillo ma non è molto che la brava gente e ben lo ricordava mio padre buonanima e lo ricordo pur io non poteva arrischiarsi a passare in prossimità di quella bettola diroccata che la razza impura aveva seguitato a mantenere in sesto a proprie spese ancora per molti anni dopo che erano successi quei fatti su dal camino annerito scaturiva una densa colonna di fumo e dopo essere salita a tanta altezza che a guardarla tiruzzolava il cappello di testa si frangeva in tizzoni ardenti sparpagliandosi per la steppa e il diavolo meglio sarebbe in vero neppur ricordarlo quel figlio d'un cane tirava certi singhiozzi lamentosi nella sua tana che le cornacchie si sollevavano a interi stormi dal querceto vicino impaurite e stridendo selvatiche volavano qua e là per il cielo grazie Grazie.